Partiremo giovedì col corso precongressuale. Avremo tre importanti colleghi che provengono da Seattle, dagli Stati Uniti. Tutti e tre sono parte del corpo docente della Spear Education, la scuola del dottor Frank Spear che abbiamo avuto come relatore di grande successo al corso del 2010. Il dottor Jim Gianachieschi, paradontologo, il dottor Greg Kinzer, protesista e il dottor Vincent Kokic Junior, ortodontista. Tutti e tre specializzati all'Università di Washington a Seattle. I tre relatori ci descriveranno il loro approccio estetico al trattamento in team dei casi con dentatura compromessa. Sarà un corso veramente molto 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 interessante. Vi aspetto a Bologna!